Amici del TG Evans, Federico Doc in grande forma per questa nuova puntata di Risate di strada. Vi acchiapperò! Ultima ora! Prosciutto cotto in lutto! Ma è mortadella! Luca, Luca, senti questo! Nicolò, senti, come si chiama? La mamma dell'ama! La mamma! Allora ragazze, ultima ora! La luna e il sole si incontrano! Colpa di fulmine! Dove si nasconde il formaggio latitante? Sottoletto! Ciao Alice, qual è il colmo per una giraffa? Essere nei guai fino al collo! In giro con gli amici di TG Evans, sai che LV siamo savage! Hai capito, ti abbiamo fatto pure rap! Ciao Luca, in chiusura! Bella zio! Ciao! Ciao! Ciao!